Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, mercoledì 8 giugno, si venera San Medardo. Medardo è stato un vescovo franco, fu uno dei vescovi più popolari dei suoi tempi e alla sua vita sono legate numerose leggende. Una di queste narra che da piccolo un'aquila lo proteggeva dalla pioggia, dispiegando su di lui le proprie ali. Intrapresa presso la strada del sacerdozio, Medardo divenne vescovo di Tune e successivamente vescovo di Nuayon, unendo nel 534 le due sedi vescovili. Il vescovato durò dal 530 fino al 545. Medardo contribuì all'evangelizzazione della Francia, opera che venne tutta affidata all'apostolato dei vescovi successivamente alla conversione del re dei franchi. Alcune raffigurazioni di San Medardo lo mostrano con la bocca aperta e sorridente, perché dopo la morte si cominciò a invocare la sua protezione contro il mal di denti. Per secoli il suo nome è stato poi associato anche alla meteorologia. Secondo un detto popolare, se piove nel giorno di San Medardo, 8 giugno, pioverà anche per altri 40 giorni. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo da avvenire, avvenire che apre con morire di migrazione, Europa avanti piano, sentenze umanitarie contro l'arresto e per l'asilo. E poi la fotonotizia, Hillary Clinton, prima donna per la Casa Bianca. Ed ancora la politica, Grillo, voto anti Renzi, ma anche il Movimento 5 Stelle arretra. Passiamo al Corriere della Sera, voti e ballottaggi e subito scontro PD 5 Stelle. A Roma si apre il caso Olimpiade, Totti va fatta. In centropagina la fotonotizia USA è la prima donna candidata alla Presidenza. Ed ancora quindi Hillary Clinton entra nella storia, ma gli americani non la amano. E poi in breve la politica, la scelta al seggio dipende anche dal valore della Casa. E ancora dovevo risolvere io i problemi dei Dem. Nel taglio basso, Ronaldo, Ibra, Recoba, i miei campioni. Vediamo ancora in breve, Sara morta prima di essere bruciata. Ed ancora il racconto, non credibile, no, Expo assolto, smentiti gli agenti. Passiamo al Fatto Quotidiano. Vediamo nel taglio alto Rina Junior, dopo Vespa, la passarella a Palermo. E poi ancora musica, sfida alla CIA, guerra per i diritti da autore. In centropagina, poltrone e voti, il governo della minoranza, Renzi e compagni, rappresentano meno di un terzo dei votanti e cambiano la Costituzione. Alle comunali i Dem si fermano al 26%, Alfano più Verdini al 2%. E poi ancora a Roma, il partito della spesa teme il Movimento 5 Stelle, Olimpiadi, Totti, sponsor per Giacchetti e Malagò. Nel taglio basso, orrori urbani, Milano non sarà mai Manhattan, i grattacieli che imbruttiscono la città. In breve vediamo, vietato sapere, scontrini, troppi segreti dai sindaci, ancora il PD e dei potenti, la gente sta con noi. E poi il libro, quando la Boschi chiedeva i voti alla Lega dopo lo scandalo di Etruria. Passiamo al gazzettino, vediamo in apertura morto d'infarto durante l'arresto, poliziotti indagati. E poi ancora in centropagina la politica, la crisi del Partito Democratico, Renzi cambia tutto, piano del Premier, commissario al Sud, nuova segreteria e gestione del partito e un vice unico con delega totale, ballottaggi da Salvini, segnali al Movimento 5 Stelle, Nord-Est Zaia accelera sul referendum per l'autonomia. E poi popolari, Veneto banca in crisi di liquidità, aumento di capitale o dissesto. E l'allarme di Forza Italia, Berlusconi in ospedale, non è grave poi. Lo scandalo Mose, confermato il maxi sequestro a Galan di 6 milioni di euro. Il giornale, vediamo altra fregatura, vogliono tassare i mutui, così titolo. Il progetto sigarette a 18 euro al pacchetto. Il governo verso il taglio delle detrazioni fiscali sui finanziamenti. E poi in centropagina la foto di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, tutto sotto controllo. La verità sulle elezioni, l'editoriale, i grillini perdono voti, il centrodestra guadagna. Ed ancora giustizia e politica, le di Vespa, riarresterei l'ingegnere. Nel taglio basso, vediamo il re del piccolo schermo, il riposo di Gerry Scotti, lavorare per 180 giorni. Il mattino il baby boss ucciso con un incensurato. E poi ancora la fotonotizia in centropagina, l'analisi, la strage infinita che non si vede in tv e nelle urne. Renzi rivoluziona il PD, parto dal sud, caos a Napoli, Bassolino con me al ballottaggio, De Luca no, eri tra il 15% e il 17%. E poi il caso, problemi al cuore, Berlusconi ricoverato a Milano, il racconto, il cavaliere e il corpo al centro della scena. Il retroscena, vediamo il tesoretto delle preferenze DEM che fa gola a De Magistris e Lettieri nel taglio basso. Il concorso di polizia tra veleni e sospetti ed ancora dal mondo perché Ilari non fa la storia delle donne. Il tempo, ecco tutti i candidati, voto per voto, l'elenco completo, i nomi e le singole preferenze delle 34 liste. Per il Campidoglio esplode la rabbia del popolo di centrodestra che chiede la testa dei vertici romani. In centropagina anche i tifosi si spaccano, totti su giacchetti, Wilson per Virginia, Di Battista dice sì ai giochi, stadio e olimpiadi, politica nel pallone. Ieri l'annuncio ufficiale con Pallotta per il Capitano, un altro anno di contratto. E l'intervista a Giacchetti del PD, speriamo che Virginia non fugga ancora le carte di mafia capitale. Il conto finale è 20 milioni, i PM appalti alterati. E confermata l'anticipazione del quotidiano Il Tempo, Sara era già morta quando è stata bruciata. Nel taglio basso il giudice irlandese in prigione avrebbe problemi con gli altri detenuti, prosciolto perché non parla inglese. L'unità voglia di vincere ora tutti uniti al lavoro per i ballottaggi napolitano, voto si tirano somme discutibili. L'istituto Cattaneo smaschera bugie e blef di Grillo, loro in calo più voti al centrosinistra. E in centropagina go Hillary, batti Trump, Hillary Clinton nella storia prima donna candidata presidente. Nel taglio basso naufragi, già 10 mila vittime, ok, dell'Unione Europea al piano italiano. La Repubblica, sempre con la politica, Renzi strappo con Verdini, il voto dei giovani per il Movimento 5 Stelle, stress Berlusconi in ospedale, Salvini ha capito che non è il leader. E l'analisi, il non partito popolare, il caso, i giochi al Colosseo, lo sport va nell'urna. Il punto, il dubbio, Italicum, spettro dispettoso e ancora l'allarme a Torino, ma in tutta Italia si rischia il caos. Spataro, personale scarso, procura in tilt, così saremo costretti a chiudere gli uffici. Vediamo ancora nel taglio basso la Liguria senza mare spezzata dalla frana ed ancora le nomination, la gioia di Hillary, passo storico per le donne. Libero, libero che apre con il titolo il cuore matto di Silvio, Cribbio, Berlusconi ricoverato al San Raffaele dopo la faticosa campagna elettorale, la delusione di Roma, scompenso cardiaco, i controlli al pacemaker messo a dicembre. E ora non si sa quanto potrà spendersi per i ballottaggi. Ed ancora vediamo città al secondo turno, le anze anti-PD, i sondaggisti spaventano Renzi, ed ancora le banche mangiavano, Banca Italia copriva, e truri a rendimenti del 20% solo sulle obbligazioni degli istituti. E poi nel taglio basso vediamo le lettere private della Fallaci, sono amica di Wojtyla, ma mi emoziona Razziker. Ed ora passiamo al messaggero, vediamo la prima pagina di oggi del messaggero, che apre sempre con la politica, il piano Renzi per il nuovo partito democratico, le mosse del Premier, cambio di segreteria, commissario per riorganizzare il Sud, un solo vice, ballottaggi, Salvini si schiera col Movimento 5 Stelle, guerra di cifre, Fradem e Grillini sui risultati al primo turno. E in centropagina il capitano ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2017, Stoccon le Olimpiadi, ha dichiarato Roma 2024, Totti in campo, da romano e romanista starò sempre a favore dei giochi nella capitale, prospettiva di sviluppo futuro. Ed ancora vediamo l'analisi, quando la politica si riduce solo a urlo e parola. E ancora San Raffaele, Berlusconi ricoverato per scompenso cardiaco. Aumenti agli statali, ipotesi di un tetto a quota 26 mila euro, nella direttiva del governo a Larran, saranno privilegiati i redditi bassi. E la pressione fiscale, Padoan, taglio IRPEF, possibile anticiparlo. Vediamo ancora caccia agli elettori, se il candidato si mimetizza per avere i voti dei moderati. La polemica, infine, non è Gomorra che fa nascere altri camorristi. Vediamo all'interno del messaggero, in primo piano, quindi la politica. Renzi vince unico, vice unico, commissario al sud, nuova segreteria e bassa, con Verdini. Nel sommario, il premier rimane segretario, ma sul modello, Craxi Martelli, delega tutto a un reggente. Ed ancora lo scenario, i sommersi e i salvati tra i Dem capitolini scatta l'allarme per i collegi dell'Italicum. Le urne penalizzano i candidati, portati da Orfini e Bonaccorsi, bene invece quelli di Zingaretti e Franceschini. La tela del premier per Roma, ora un fronte civile per salvarla. Il retroscena, mobilitati i parlamentari, Dem per la campagna di Giacchetti, al balottaggio. Il progetto, creare una rete dal basso per non consegnare la capitale ai pentastellati. E alla Camera, riforma dei partiti, oggi il primo sì. La polemica a Napoli dopo il flop e guerriglia interna, Bassolino abbiamo perso senza lottare, l'ex sindaco contro tutti. E nel partito si moltiplicano i mal di pancia per l'annuncio del commissario. Ancora Roma 2024, Totti in campo, io sempre con le Olimpia di Mossa del Capitano, mentre i giochi animano il ballottaggio, raggi e contraria. Anche laziale, Candreva, Sischiera, la capitale sarà proiettata nel futuro. La candidata del Movimento 5 Stelle aveva detto parlarne è criminale, ma ieri non siamo contrari pregiudizialmente. I romani chiedono altro a detto. Il Movimento, vertice con raggi da Di Maio, se sbagliamo, addio, governo, riunione in Senato, la vittoria di Roma, tappa chiave per arrivare a Palazzo Chigi, la pentastellata oggi dall'ambasciatore USA, i segnali di interessamento della Chiesa. Il caso, la guerra delle preferenze, Pivetti resta senza il seggio, la capolista leghista non ce la fa, fuori anche Storace, caso Maroni a Varese. Passiamo ancora avanti, il caos in Forza Italia, il ricovero di Berlusconi, allarma il partito, lui non mollo da ieri al San Raffaele per scompensi cardiaci, la telefonata a Parisi, tranquillo, domenica ci vediamo da me, gli sms del medico ai colonnelli. La preoccupazione dei forzisti disorientati, lo scontro interno rinviato a dopo i ballottaggi. L'intervista poi alla Mussolini che dichiara la mia missione era solo fermare Meloni per certe operazioni, Silvio chiama sempre me, ho fatto una kamikazzata e l'obiettivo è stato colpito. Il retroscena vediamo i verdignani, se il PD ci scarica rischia conseguenze in Senato, alta tensione in ala dopo le prese di distanza del Premier, non può incolpare noi per Napoli lo sfogo dei parlamentari, basta essere trattati da brutti anatroccoli, riapriamo a Berlusconi. La battuta d'arresto nella costruzione di un vero e proprio partito. E poi la Mussolini, come detto, il ballottaggio, Raggi sembra un'attrice da telenovela, anni 80, meglio lei o Giorgia, nessuna delle due. Ed ancora guerra di cifre, PD 5 Stelle, a Roma il ballottaggio si gioca su 130 mila schede. Milano vediamo disaffezione moderata, il rischio per Parisi, a Torino, Fassino e Appendino, pescano nei due poli, a Bologna il 7% della sinistra può fare la differenza, a Napoli, scusate, De Magistris, calamita per gli elettori del Movimento 5 Stelle. E il caso Movimento 5 Stelle cerca voti a destra, e Salvini siamo con voi, prove di scambio Roma-Milano, qui la destra, voterebbe Raggi e lì 5 Stelle con Parisi. Il PD nella capitale punta soprattutto a recuperare gli astenuti in nodo Fassina. E così la neosinistra si è ritrovata svuotata dai grillini. A Roma è rottura, una parte dei Fassiniani potrebbe sostenere il Dem Giacchetti al ballottaggio. Sinistra italiana ancora tenta il rilancio, l'obiettivo sono i comitati del no al referendum del prossimo ottobre. E statali vediamo il rinnovo, aumenti non a tutti, ipotesi tetto a 26 mila euro. Il ministro Madia prepara la direttiva per il rinnovo, priorità ai redditi bassi. I sindacati si preparano allo scontro, possibile sciopero generale a settembre. E vediamo nella grafica la spesa dei dipendenti pubblici dal 2009 fino al 2015. Ancora vediamo dal mondo la svolta Hillary Shaw, prima donna in corsa per la Casa Bianca. La Clinton ora ha raggiunto il numero di delegati necessario per la nomination. Obama chiede a Sanders di farsi da parte, lei momento storico senza precedenti. Vediamo ancora dal mondo l'attentato, bomba sulla polizia, strage a Istanbul. L'esplosivo in un'auto parcheggiata viene fatto saltare al passaggio di un mezzo carico di agenti. 11 morti, fra cui 6 civili, più di 40 i feriti. Altri due attacchi nel primo anniversario del successo kurdo alle elezioni. Il governo accusa il PKK, fermati 4 presunti terroristi. E l'intervista vediamo migranti, subito 8 miliardi per l'Africa. Pittella è passata alla linea dell'Italia, nuovo piano della UE per affrontare l'emergenza. Sbarchi il presidente dei socialisti, la commissione ha fatto la sua parte ma adesso tocca agli stati. Ancora tra le cronache, la storia bresciana è convertita, voleva andare in Siria. La donna è indagata per arruolamento con fini terroristici, espulso il marito tunisino. Figlia di un ricco imprenditore, seguiva gli insegnamenti di un teologo integralista. Ancora reggeni, i prof di Cambridge non parlano, fallisce la missione dei PM italiani in Inghilterra. Gli accademici che guidavano le ricerche di Giulio scelgono di non rispondere. I genitori del giovane triestino si erano appellati alla comunità scientifica, abbiate il coraggio di vincere. L'indifferenza morale avevano chiesto. Ed ora la prima pagina dedicata all'economia, vediamo che apre con i dati. Padoan, possibile anticipare il taglio IRPEF, anche l'Istat intravede una frenata della crescita, in calo la fiducia delle imprese, ma il ministro dell'economia è fiducioso e rilancia. Ci sono margini per ridurre le tasse in maniera significativa, entro alcuni anni la pressione fiscale scenderà al 40%. Ed ecco in centropagina il grafico, appunto, i dati dell'economia europea nel primo trimestre. Ed ora con la prima pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, io oggi ti farei un'altra domanda in apertura prima degli aggiornamenti del tempo, appunto. Perché stamattina, tu sai, abbiamo detto in apertura che oggi è San Medardo e San Medardo dice la leggenda che se piove oggi, 8 giugno a San Medardo, piove per 40 giorni. Ecco, questo sicuramente è un detto popolare, però nella grafica questa mattina avevo visto che diversi anni se ha piovuto, è piovuto l'8 giugno, è successo anche veramente in altri giorni. Che ci dici? Eh sì Elisa, diciamo che la situazione attuale continua ad essere ancora caratterizzata dall'instabilità, quindi su diverse località della nostra regione è prevista pioggia. E infatti nel corso tra la tarda mattinata e nel corso del pomeriggio tenderanno a svilupparsi dei temporali sulle zone interne e sulle zone montuose dopo una mattinata invece all'insegna del bel tempo un po' su tutto il territorio regionale. Però, come dicevo, poc'anzi nel corso del pomeriggio si formeranno queste torri di vapore, questi comunonendi che portano rovesci e temporali soprattutto sulle zone interne, sulle zone montuose. Però attenzione perché nel pomeriggio, tardo pomeriggio o comunque entro sera questi fenomeni potranno estendersi verso le zone pedemontane e verso le zone colinarie che si affacciano sul versante adriatico. Si tratterà questa di una situazione di instabilità che però domani tenderà ulteriormente a peggiorare perché è in arrivo un impulso di aria fresca proveniente dall'Europa centro-settentrionale che proprio già a partire dalla mattinata di domani raggiungerà le regioni centro-settentrionali e quindi questo favorirà la formazione di nubi con rovesci e manifestazioni temporalesche già al mattino. Al mattino saranno possibili dei temporali localmente anche di una certa consistenza in ulteriore intensificazione tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio su gran parte del territorio regionale. Quindi i fenomeni si manifesteranno sia sul settore occidentale sia sul versante orientale e lungo la fascia costiera risultando localmente di forte intensità. Quindi anche questa è una situazione da segnalare. Poi anche venerdì continuerà la presenza di una certa nuvolosità con possibilità di temporali però stavolta più probabili sulle zone montuose e sul settore occidentale. Un temporaneo miglioramento, temporaneo così si può dire è previsto nella mattinata di sabato ma attenzione perché dalla serata e soprattutto nella giornata di domenica una nuova perturbazione atlantica attraverserà le regioni centro-settentrionali e porterà un nuovo peggioramento sulla nostra regione con rovesci ancora temporali stavolta sia sul settore occidentale poi in estensione verso il settore orientale della nostra regione. Questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti alla luce dei dati attuali a nostra disposizione quindi si prospetta anche un fine settimana all'insegna del tempo instabile. Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro buon lavoro e soprattutto una buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande ed essere quindi sempre aggiornati in condizioni, delle condizioni meteorologiche appunto in tempo reale. E ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa, ma passiamo alle notizie regionali. Dal quotidiano Il Centro, dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro vediamo le prime quattro pagine. Iniziamo con la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara in apertura, ritorna a casa e la trova occupata. Montesilvano, residente negli alloggi popolari, deve attendere settimane prima di poter rientrare. Gli inquilini abusivi hanno lasciato i locali dopo l'intervento delle forze dell'ordine. In centro pagina paura tra gli automobilisti, cavallo libero in mezzo al traffico, sull'asse attrezzato. Nelle crona che muore a 69 anni nello scontro frontale, vittima un pescarese a Rocca San Giovanni. Pescara Calcio, si parla anche di minacce, Sebastiani, non mi fido, ci aspetta una battaglia. E poi Imu, chi la paga e chi no, Pescara sconti, esenzioni e le aliquote della tassa. Passiamo alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura la prima pagina del centro. In apertura, scontro frontale, muore a 69 anni. A Rocca San Giovanni l'uomo si è aggravato nel pomeriggio dopo il primo ricovero a Lanciano in un altro incidente ad Atessa a novantenne alla guida di un ape, travolto da un'auto e grave. In centro pagina la denuncia di un medico a Chieti, malati di tumore curati. Nell'ospedale Tir e nelle cronache, ora tutti a caccia dei voti della Paolucci, Lanciano verso il ballottaggio. E in Vasto, Vasto verso il ballottaggio anche, PD lite dopo il tonfo, la penna accusa Amato. E poi Limo ancora, chi la paga e chi no, Chieti, gli sconti, le esenzioni e le aliquote della tassa. Ed ora, prima pagina dedicata alla provincia di Teramo. Vediamo in apertura, Teramo che apre con io innocente per otto mesi in cella. Il racconto di un imprenditore giuliese assolto nel processo di appello dall'accusa di rapina in primo grado. Era stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione. E poi in centropagina, la fotonotizia e il ballottaggio a Roseto di Girolamo e Pavone, si contendono i voti della Ciancaione. Nelle cronache, in Teramo, la ASL tenta di salvare neurochirurgia, i tagli del decreto Lorenzin. In Atri, salvata dalla Croce Rossa, ora è volontaria una ragazza di Atri appunto. Nel taglio basso, invece, vediamo giunta il caso Tancredi. Paolo, mio fratello, doveva restare assessore. Passiamo alla prima pagina dedicata alla provincia di L'Aquila. Vediamo in apertura la prima pagina appunto del centro. L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo in apertura. Apre con la cronaca, turista violentata, tre nei guai, San Benedetto dei Marsi, minorenni vanno a processo. In centropagina, la città in tilt, violento temporale, strade allagate. All'Aquila, le cronache in Sulmona, Casini e Dimasci a caccia degli assenuti. In L'Aquila, invece, indennizi col trucco, tre persone nei guai. E sempre all'Aquila, affittava casa a prostitute, proprietaria di appartamento, denunciata. Ed ora vediamo la prima pagina, invece, del quotidiano della provincia di Teramo. Vediamo la città, vediamo come apre questa mattina. Vediamo se riusciamo. Eccoci un attimino di pazienza. In apertura, quindi la città di oggi, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre con la politica, Roseto. Il PD non vuole, scusate, vediamo se riusciamo a visualizzare la prima pagina della città. Eccoci Roseto, il PD non vuole parenti, porte chiuse alla Ciancaione, in vista del ballottaggio. Nell'urna anche la rivincita per le primarie saltate. E poi, in centropagina, la fotonotizia Giulianova, blitz anarchico, al concerto della polizia, urla e striscioni, mentre la banda suona al festival. Navarra al parco, via libera dell'Anac, d'Alfonso e Cialente, anticipano il parere di Cantone. E poi, vediamo ancora dal Toga Party di Tortoreto, al cospetto di Barack Obama. Teramo in crisi, a rischio anche i tre consiglieri delegati. Passiamo all'interno della città. Vediamo la pagina dedicata alle notizie regionali. A Pescara arriva la mega ruota panoramica. Sarà alta 42 metri e sarà fruibile fino al prossimo gennaio. Cuzzi porterà in alto il nome della città. E poi, cronaca, un cavallo scappa e finisce tra le macchine sull'asse. Attrezzato l'Aquila, sotto sequestro una casa a luci rosse in piazza d'armi. La proprietaria è stata denunciata con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento. All'Aquila detenuti lunedì sit-in davanti al Consiglio regionale per la nomina del garante. Per Maurizio Cerbo e Vincenzo Di Nanna la legge è inapplicata da cinque anni e il ritardo danneggia l'intero sistema. Ancora Roseto al ballottaggio. La rivincita primarie PD direttamente nell'urna. Chiunque vincerà al ballottaggio avrà comunque il premio di maggioranza del 60% dei consiglieri. Nel taglio basso, Bellante, Vincenzo Fanini, benedice anche la vittoria di Melchiorre. Il coordinatore di Forza Italia svela l'accordo tra democratici e centrodestra. E poi ancora vediamo a Roseto i Dem chiudono la porta ad ogni ipotesi di apparentamento. Sabatino Di Girolamo e l'onorevole Ginobble si preparano al ballottaggio. Ricordiamo Di Girolamo con i voti 35,95%, Pavone 34,90% e poi la Ciancaione che non è più in gara appunto con 29,13% dei voti. Il bilancio elezioni agrodolci per la sinistra italiana a pesare sono soprattutto le sconfitte di Basciano e Roseto. Ed ancora vediamo la crisi in comune. A Teramo rischiano di saltare anche i consiglieri delegati. Scontro aperto tra i capigruppo sulla novità annunciata dal sindaco che implica una modifica allo statuto. Contrari PD, Teramo Cambia, 5 Stelle, Gruppo Misto e anche la Civica. Al centro per Teramo schierata con l'opposizione. Lo statuto nelle regole di funzionamento del municipio non è prevista la figura del consigliere delegato. La surroga nel question time ha previsto l'ingresso della De Luca al posto dell'assessore fracassa di Futuro In. E poi il processo, vediamo, cade in tribunale e chiede i danni al comune di Teramo. Ancora nuova giunta nel mirino, nuovi assessori. Manola a testa bassa, anche contro Canzio allo sport. L'esponente democratica critica il delegato per il suo coinvolgimento nella pallamano femminile. E ancora vediamo Navarra al parco, via libera dall'anticorruzione. D'Alfonso anticipa il parere di Cantone sull'incompatibilità. Eccellente conferma l'ok sulla nomina appunto dell'avvocato Tommaso Navarra al presidente del parco. Il fatto dai gavettoni di fine anno al tuffo nel lago della villa, la bravata dei ragazzi delle medie. Passiamo ancora avanti, spending review all'Azu, tagli a compensi, auto blu e alla sede che si sposta al campus. La ricerca dalla Pensilvania, Teramo per il benessere degli animali, studenti USA ospiti dell'IZS per specializzarsi. Trasporti, vediamo da Teramo a Roma ad un euro con la start-up dei trasporti Flixbus. Dal 16 giugno la compagnia avvierà i collegamenti anche con Ancona e Pesaro, prenotazioni in app e su internet. Appuntamenti, vediamo la storia degli avvocati Teramani. Domani l'evento di Fai, Salotto e Foro. Ed ancora la provincia, la caccia al cinghiale divisa in tre fasi dopo il parere favorevole dell'ISPRA. La provincia ha approvato il nuovo piano di contenimento sindacale, il pullman dei diritti della CGL fa tappa a Montorio e Teramo. Nel taglio basso, Penna Sant'Andrea, dopo 30 anni, iniziano i lavori per l'irrigazione a Valvomano. Il sindaco Severino Serrani fa il punto dei primi due anni di amministrazione su scuole, opere pubbliche e manutenzioni. Tortoreto, un giovane tortoretano al cospetto di Obama, il 33enne Ernesto Di Giovanni, invitato dal governo USA nel programma del Dipartimento di Stato. E poi ancora in Ereto, i dissidenti lasciano il Consiglio durante l'approvazione del bilancio. Nel taglio basso, Martinsicuro e i bambini vibratiani si riuniscono a Martinsicuro. Successo per l'evento dedicato al gioco e organizzato dalla Clematis. Ancora, vediamo Giulianova a blizzanarchico al concerto della banda della polizia, protesta al grido di assassini per il caso Cucchi da parte di cinque ragazzi. E ancora Giulianova, arriva l'estate ma la spiaggia è sporca, la zona turistica ridosso della foce del Salinello colpita dal degrado. Comune disattento, secondo il Movimento 5 Stelle la situazione inaccettabile richiede un intervento immediato. E sempre a Giulianova, la settimana corta, polemiche sul questionario. Nel taglio basso, il Festival delle Bande, ecco i vincitori della lotteria. E poi Silvi, vediamo piano regolatore in Consiglio a Ferragosto. Il documento sarà finalmente discusso il 13 agosto per dare modo a tutti i consiglieri di studiarlo con calma. L'assessore preferisce aspettare le ferie perché così si potranno esaminare tutti gli atti. E da Roseto il sindaco Poliandri perde due assessori, le dimissioni a Morro d'Oro. Poi ancora la storia a Atri, salvata dalla bufera, oggi è volontaria. Ragazza di Atri oggi è al servizio della Croce Rossa di Roseto. La morte del camionista, Atri perde una colonna dello sport cittadino. L'autotrasportatore Guerino Pavone è morto nello schianto in A4 a Venezia, da sempre impegnato nell'Adri a calcio. Guerino Pavone è morto lunedì pomeriggio dopo essersi schiantato con il suo camion in autostrada mentre andava a Venezia. Nel taglio basso vediamo Pineto, presentata la richiesta per il consiglio su farmacia e conflitto di interessi. I consiglieri a Sogna e di Pietrantonio chiedono la revoca del CDA e della delibera di affidamento al pro territorio. Cultura, vediamo l'omaggio a Rossini con Ferranti, il giovane direttore venerdì in concerto a Morro d'Oro con l'orchestra sinfonica abruzzese. Torniamo al messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura la prima pagina dedicata alla regione e quindi le notizie regionali. Vediamo la prima pagina, come apre? Eccoci, c'è un solo ospedale super Pescara Chieti, dalla fusione nascerà l'unico presidio di secondo livello. La sanità che verrà, la sorpresa contenuta nell'atto programmatorio della regione, stoppa l'ipotesi, l'Aquila Teramo. Pescara, poi ancora il progetto, spuntano due palazzi nell'area di Risulta. Risulta, il ristorante top, il reale di Nicoromito, tra i primi cento al mondo. Poi il blitz, prostitute trans, l'Aquila a luci rosse, scoperta una casa d'appuntamenti a Piazza d'Armi, proprietaria denunciata. In centro pagina Pescara, il patto dei calciatori. Resteremo Biancazzurri in serie A. E la strage di sangue è un morto nel Chietino. Entriamo all'interno, vediamo quindi per quanto riguarda le notizie sulla sanità, un solo ospedale di secondo livello, Chieti-Pescara. Nell'atto programmatorio, ancora riservato, viene esclusa la possibilità di un'altra struttura unendo l'Aquila e Teramo. Autostrada, progetto Toto, i tecnici pericolo sismico. Ed ancora il caso, tangenti nelle basi dell'Aeronatica Militare, è chiesto il processo per due abruzzesi. Si tratta dei marsicani Giovanni Sabetti e Antonio Santilli. E poi l'allarme Equitalia, la chiusura di Chieti mai pianificata. Prima pagina dedicata a Pescara. Alessandro, i libri come eredità, il giorno del dolore. Ieri, durante le sequi, l'annuncio che la famiglia è disponibile a donare la ricca biblioteca dello storico morto in Turchia. Il commosso ricordo degli amici e dei colleghi. Un uomo di cultura che ha lasciato la vita nella terra che più amava. Ed ecco le foto dei funerali, appunto la bara di Alessandro Angelucci, che esce dal Media Museum, al lato la mamma e la sorella, sotto alcuni amici del professore. Su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Francesca Romana Testi. È arrivato nella giornata di ieri dalla Turchia il feretro di Alessandro Angelucci, il giovane docente universitario morto a causa di una caduta di 50 metri, nel corso di un'escursione nel distretto di Carasu. Secondo la ricostruzione, le scarpe bagnate dall'attraversamento di un fiume sarebbero state la causa della tragedia. Il manto roccioso sul quale stava camminando Alessandro sarebbe stato fatale. Un giovane ricercatore originario di Lanciano è residente a Pescara, che solo lo scorso anno aveva già ottenuto il primo incarico ufficiale all'università, con una cattedra al master di prime a un livello di teoria e pratica di teatro e musica di lingue e letterature straniere. L'incidente è avvenuto il 30 maggio e lunga è stata l'attesa dei suoi cari per vederlo ancora un'ultima volta. Tutta la città si è stretta intorno alla famiglia di Alessandro e da ieri sera è stata disposta una camera ardente al Media Museum di Pescara, dove tantissime persone gli hanno reso omaggio. La cattedrale di San Cetteo è stata la chiesa scelta per la celebrazione dei funerali. Ancora tanto sgomento e incredulità da parte della sua famiglia e dei suoi amici che lo ricordano per la sua dedizione al lavoro, la maturità che lo ha sempre contraddistinto e l'eredità che lascia dolorosamente i suoi cari e quella della sua gloria. La sepoltura verrà ad Ancona, dove vive la sorella Giovanna e dove si trasferirà anche la mamma di Alessandro, rimasta sola dopo la scomparsa del figlio. E nel taglio basso della prima pagina dedicata a Pescara vediamo la svolta. Area di risulta spuntano due palazzi. Il sindaco svela oggi il piano che prevede una quota di edilizia residenziale e l'uso dei 12 milioni del masterplan. Entriamo all'interno, vediamo l'emergenza. Cavallo a spasso sull'asse attrezzato. Sorpresa e panico tra gli automobilisti all'alba di ieri. L'animale vagava all'altezza dello svincolo di via Raiale. Non è il primo incontro ravvicinato del genere. Anni fa, nella stessa zona, l'incidente nel quale perse la vita un ragazzo. Pericolo online. Agenzia delle entrate. Occhio alle mail. Truffa. Ed ancora il blitz. Si rifiuta di aprire alla polizia. In casa aveva 8 chili di hashish. Gli agenti sfondano una finestra e trovano la droga dentro. Un trolley in manette. Un marocchino di 37 anni. E il verde dimenticato. Vediamo effetto savana. Si corre a ripari. Al lavoro 5 squadre di giardinieri. Il blitz. Ancora tracce di topi in cucina. Asilo chiuso dal NAS a Civitella. Casanova. Ed ancora vediamo Luciani. Giunta donne e volti nuovi. Sceglierò un gruppo in grado di portare avanti il percorso di rinnovamento che abbiamo inaugurato 5 anni fa. Il sindaco confermato punterà su alcuni giovani affiancati da quelli che hanno maggiore esperienza amministrativa. La parità a Valpescare a tanti comuni si colorano di rosa. Ed ancora il dopo voto. Ricetta del dottor Semproni. Subito le strade pulite. Il primo cittadino guarda il concreto. Si lavora sulla giunta. Torna Ferrante. Pina Tulli in poll per il sociale. E guerra tra poveri. Famiglia occupa casa Ater. Intervengono i vigili urbani. Ancora avanti. Pagina dedicata all'Aquila. Sblocchi occupazionali. Università al top tra gli atenei del centro-sud. Tre anni dalla laurea. L'86% dei laureati in città trova un lavoro. I dati incoraggianti emersi dai rilievi di Alma Laurea coinvolte 71 strutture. Giunta dell'economia. D'accresa segnali positivi per il sistema manifatturiero. Ed ancora viabilità. Proposto nuovo casello autostradale a Lucoli. Gli scenari la Inverardi nella foto al posto di Lolli. Ma lei smentisce. Nel taglio basso vediamo il caso. Acquisti su internet. Scoperta truffa dalla polizia postale. E poi l'inchiesta. Violenza sessuale. Nuove indagini. La giovane vittima si è opposta al proscioglimento. E al GIP ha ordinato approfondimenti su un militare. Entriamo all'interno. Il blitz. Prostituzione. Sigilli a una casa d'appuntamento. Denunciata la proprietaria che affittava in via di Vincenzo. Mal tempo. Tantissimi disagi per il nubifraggio. Uno scuolabus è rimasto bloccato sulla statale 17. Non potendo salire su via della polveriera. Eccellenze. Banca degli occhi. Altro riconoscimento. Nuova certificazione di qualità per la struttura dell'ospedale San Salvatore. E poi la cerimonia Roma Club. Ecco la sala Museo Foschi. La cerimonia preceduta da un convegno con molti spunti di interesse storico sportivo. Ed ora ancora sul Mona. Ora di Masci. Corteggia la Bianchi. E soprattutto il nodo degli apparentamenti. A tenere banco in vista del ballottaggio di domenica 19 giugno. La candidata di Forza Italia però sembra rispondere picche al professore. Lavorerò dall'esterno. Avezzano. Cacere conferma la candidatura. Saremo senza colori. E a Pratola nasce quartiere di case popolari. La polemica nasce tra le contestazioni. L'ente teatrale avezzanese. Santo Maggio di Forza Italia denuncia. Marcheggi. Alle sue spalle il sindaco. Noi ai partiti. Ad Avezzano ancora. Vediamo prigionieri nell'auto a pochi metri della ferrovia. Sul Mona. Ponte via Gorizia. Cambia il progetto. E a Tagliacozzo. Medaglia d'oro a due carabinieri marsicani. Chieti. Civitella. Torna l'immondizia. Due giorni dopo la maxipulizia. Inutile lavoro dei volontari. Impegnati a ridare dignità ad uno dei tesori di Chieti. Bottiglie di birra. cartacce, rifiuti e vernice spray depurtano tutta l'area. Il caso ASP bagarre sulla nomina. Maggioranza divisa in tre. Ed ancora in breve l'iniziativa. Ambiente campagna dedicata al riciclo. E la paura nel taglio basso. Allarme cornicioni. Transenne all'ex Banca d'Italia. Il campus Palazzo De Maio riapre ma solo per i bambini. Stragi di sangue. Un morto e tre feriti. Rocca San Giovanni. L'incidente più grave. La vittima del terribile frontale è Antonio Laccetti. 69 anni di vasto. Adatessa un anziano. La guida di un ape car. Si scontra con una golf. E in coma. In ospedale anche l'automobilista. Ortona. Tonnellate di cozze abusive. Sequestrate e distrutte. Lanciano. Reati ambientali. Condannati di Mattia. E sempre a Lanciano. Ha picchiato la nonna fino ad ammazzarla. Il PM Vecchi chiede il rinvio per Emilio Teti. Il 41enne di bomba. Accusato di omicidio volontario. Il ballottaggio. Lanciano. Tutti a corteggiare la Paolucci. Per pupillo ed amico. Partita la caccia dei voti. Delle liste civiche. E ancora elezioni. Basto. Desiati menna. Parte la battaglia. Pagina dedicata a Teramo. La politica. Chiarini pronto a dimettersi. Canzio è fracassa. È tutto ok. La bufera sull'incompatibilità degli assessori del Bruciter. Il regista. Non sono un tecnico. Volevo inglobare tutta la materia. L'assessore si difende e attacca duro il Partito Democratico. In alto l'assessore nel cerchio del nuovo assessore Roberto Canzio. Che dice nessun conflitto di interesse. Senza di me la palla a mano sarebbe finita. E poi la spending review. L'Azu taglia i costi con la nuova sede. Ridotti compensi alla dirigenza. Collaborazione con l'università. E sportello per gli studenti. La Summer Cup Rodomonti in campo 400 baby calciatori. Il caso centro per l'impiego irraggiungibile per i disabili. E la tragedia. La Salma di Pavone tornerà nelle prossime ore. Ancora vediamo sulla costa Giulianova sfratto bloccato da ricorso al Tar. Famiglia si oppone alle decisioni del comune. E per la difesa si affida a due avvocatesse. Sono ancora quattro i nuclei che occupano un alloggio abusivamente. Ma il municipio ha deciso di resistere in giudizio. E intende andare avanti nel provvedimento esecutivo. Giulianova ancora detriti sulla spiaggia alla protesta dei Cinque Stelle. Calcio invece. Mastro Mauro incontra imprenditori. A Colonnella nella giunta Pollastrelli anche i dissidenti del Partito Democratico. Questo è un interrogativo. Il vincitore assicura l'elettorato e non faremo tutto nella massima trasparenza. L'elettorato e non scusate e poi dichiara faremo tutto nella massima trasparenza. E comunali ancora vediamo la ginobile regina delle preferenze. Se è stata la più votata di Girolamo, può fare un monocolore con il PD. E' sempre di Girolamo Pavone, mosse da ballottaggio. Andiamo ancora avanti. Prima di passare alla pagina sportiva, torniamo al centro per vedere internamente nell'edizione dedicata alla provincia di Pescara. Entriamo all'interno, vediamo le notizie interne al centro. In apertura, nella pagina dedicata all'Abruzzo, i consiglieri più votati nei comuni, che ha vinto al ballo delle preferenze, e tutta la grafica. Pagina invece dedicata a Pescara, i precari di Attiva ridotti all'elemosina, e gli interinali allestiscono un banchetto in piazza Sacro Cuore e vendono oggetti artigianali. Abbiamo bollette da pagare. Mario Ferrone, sono papà di tre figli e non ho i soldi da dargli per il bus. E ancora Giovanni Rinella, neppure le scarpe posso permettermi, andrò in Germania. Le aziende si presentano ai ragazzi, lavoro carrerdei all'Ateneo, studenti e neuro laureati portano il loro curriculum. e vediamo ancora l'ordinanza per via Battissi. Il comune allunga gli orari della Movida, locali aperti fino alle 2 di notte. Nei fine settimana, i residenti pronti a riprendere la protesta. Il sindaco non ci rispetta. Gli altri locali e dentro al mercato si chiude all'1.30. Ancora aree di risulta, investimento da 42 milioni, presentato un nuovo studio, prevede parcheggi per 1940 posti auto, verde, abitazioni e negozi. E sempre a Pescara, una ruota panoramica nell'ex Cofa, la struttura di 42 metri, resterà fino a gennaio. Ogni corsa costa dai 6 agli 8 euro. E la guida facile ha le tasse sugli immobili, a conto IMU, chi deve pagare e chi no, si avvicina alla scadenza del 16, primo versamento, sconti per le case incomodato, ai figli e per quelle a canone concordato. E poi la Tasi, solo pochi giorni per fare i versamenti, il termine per la prima rata è fissato al 16 giugno, ma quest'anno le abitazioni principali sono esentate. E poi l'addio al prof morto in Turchia, tutte le foto, 4.000 libri alla città, l'ultimo dono di Angelucci, in centinaia a San Cetteo per i funerali del docente universitario, caduto nel dirupo. La famiglia e la sua biblioteca al servizio di tutti, l'abbraccio degli amici. E gli amici che hanno detto sognava in latino, scherzava in dialetto. Geriatria, vediamo ancora gli anziani ricoverati in corridoio, torna l'emergenza nel reparto, il nursing del sindacato, i pazienti vanno dirottati, il primario manca personale. Paura all'alba ancora per un cavallo sull'asse, l'animale è fuggito da un recinto, ha invaso la strada, gli automobilisti hanno chiamato la polizia, multato il proprietario. In breve, Cuzzi e Pagnanelli, i vertici del PD, devono dimettersi. Ed ancora vediamo, nel taglio basso scuola, interventi sulla sicurezza, ieri ultimo giorno di lezioni, lavori in corso al Belisario e alla Cerbo. E poi l'allarme tra i contribuenti, l'agenzia delle entrate, attenti alle false mail sul PC. Licenziata dall'enaia, il giudice la riassume, impiegata, mandata via nel 2014, fa causa al gestore di Renzo e vince la progetto spot, condannata a reintegrarla e a pagarle 12 stipendi. Scuola lavoro, attestati per 22 studenti, cerimonia in capitaneria con i ragazzi dell'alberghiero della Cerbo e della Di Marzio Michetti. E poi Montesilvano, vediamo, esce per poche ore, gli occupano la casa, gli abusivi negli alloggi popolari, ho dovuto attendere qualche settimana, un cinquantenne, per rientrare nell'abitazione dell'Ater, di cui è legittimo titolare. E poi il pusher, arrestato con 8 kg di ascis, operazione della squadra mobile a Montesilvano, in carcere, a Pescara, 37enne marocchino. E poi lo scontro tra moto e bicicletta, Montesilvano, donna ferita, incidente sulla strada Parco, all'incrocio con Viale Abruzzo, prognosi di 30 giorni, per una 75enne. E vediamo ancora, Montesilvano, stesso in ufficio, un testimone ha chiamato le forze dell'ordine, l'ingegner di Donato, è stato licenziato da un dirigente dell'Unione dei Comuni, di Lugo di Romagna, avrebbe attirato una donna straniera nel suo ufficio, ora potrà fare ricorso al giudice del lavoro. E poi l'addio laico al designer Laura Lorenzetti, spoltore, la donna è morta, venerdì a 45 anni, per la prima volta un funerale si è svolto in municipio. E poi l'accademia del portiere con il delfino Pescara al centrovestina, stage bianca-azzurro, per scoprire giovani, numeri uno. E poi l'avvio al via, la rassegna spoltour, tra borghi, arte e cultura. Torniamo velocemente al messaggero, per vedere la pagina sportiva, il Pescara in apertura, non c'è dubbio, c'è un patto per la A, dopo la trasferta di Vercelli, c'è stata una promessa tra i giocatori di Oddo, restare anche l'anno prossimo. L'allenatore vorrebbe due conferme eccellenti, la società pronta a investire per tenere Verre. E sono già molti giocatori di proprietà in caso di promozione, riscatto ok per Ben Ali. E il bomber per la padula e scontro tra Napoli e Juventus, intanto la nazionale lo studia per un possibile appuntamento in azzurro. E io direi anche su questo articolo di fermarci per vedere il contributo video di Paolo Renzetti e quindi la vigilia dei bianca-azzurri. Aldegani, come si vive una vigilia così importante in uno spogliatorio di una squadra che tra poche ore si giocherà la conquista della Serie A? Con la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter centrare questo obiettivo, ma sapendo che ci aspetta ancora una battaglia, come dice il mister Oddo, bisogna azzerare completamente mentalmente la vittoria dell'andata e andare lì come fosse una partita secca. Una partita che vale una stagione, i sacrifici di un'intera stagione. Rispetto però all'anno scorso vi presenterete al provinciale con questo 2-0 che è sicuramente un risultato importante. Ma sarebbe un errore basarsi esclusivamente su questo risultato. Noi dobbiamo andare in campo e fare la partita che siamo in grado di fare con le nostre caratteristiche e cercando di conquistare questo sogno che aspetta la città, la società, la squadra, tutti quanti. Si parla tanto Gabriele in queste ore dell'aspetto ambientale che rischierete di trovare al provinciale. Diceva qualcuno farà molto caldo in terra siciliana, ma Pescara è pronto comunque a dare battaglia. Ma credo ormai che con questo tipo di partite il giocatore si isola. sicuramente loro prepareranno il clima, un ambiente caldo, infuocato, ma siamo pronti. Ormai è il secondo anno che disputiamo semifinali e finali. Abbiamo trovato i campi caldi. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e fare ciò che sappiamo fare. A Trapani ci saranno oltre 400 tifosi del Pescara? Innanzitutto c'è da ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno regalato nella finale d'andata che è stata un'emozione incredibile. E non si sono smentiti e a Trapani verranno in tanti. Purtroppo i posti sono quelli che sono. E' una buona notizia per i tifosi che non hanno avuto la possibilità di acquistare il biglietto. Maxi Schermi in Via Pepe, Piazza Salotto. C'è Disco Verde. Infatti domani sera i pescaresi potranno seguire tutti assieme la finalissima di Trapani sperando di potersi scatenare poi con la festa per la promozione. l'amministrazione comunale ha predisposto d'accordo con Sky un imponente maxi schermo a Piazza Salotto alle 20.30 tutti con maglie, scarpe e bandiere per colorare il centro della città. E poi Lanciano il saluto alla B. Questa sera a Salerno bisogna recuperare dall'1 a 4 dell'andata per sperare di conquistare la salvezza. Mister Maragliulo mette i puntini sulle I. Troppe assenze importanti nella gara in casa ed ora si può ripartire. E poi la Lega Pro Teramo Cenciarelli e Scipioni verso l'addio Dorazio potrebbe restare nel Mirino Margiotta Carcalis e Altobelli. Con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione